Buon inizio di giornata a tutti voi telespettatori e telespettatrici di Rossini TV, ben ritrovati a Buongiorno Rossini, ben ritrovati al nostro consueto appuntamento del mattino con la rassegna stampa dei quotidiani locali che ogni mattina vi proponiamo in diretta dal lunedì al sabato con le prime pagine e le notizie all'interno di Corriere Adriatico e resto del Carlino Cronaca di Pesaro, martedì 19 dicembre ore 7 e 20 prima del momento dei quotidiani andiamo come sempre a dare uno sguardo su uno dei nostri territori in questi giorni prenatalizi e lo sguardo è sul pincio di Fano, primo movimento nel centro fanese in questa che è una giornata di clima tutto sommato sereno come ci mostra anche la grafica del supporto web del meteo e dell'aeronautica militare, vedete una mattina prevalentemente soleggiata con un grigiove qualche nebbia che invece avanzerà nel pomeriggio, temperature rigide con la massima di 10 gradi e la minima di 4 per questa giornata, 4 gradi che è più o meno la temperatura di questo momento e dunque andiamo come sempre a vedere le prime pagine di resto del Carlino e Corriere Adriatico cominciamo oggi dal Corriere con le notizie portanti che vi abbiamo mostrato anche ieri nel nostro telegiornale a cominciare dalla riapertura della strada della Contessa le nostre telecamere ieri si sono accese al confine tra Marche e Umbria per la riunione di queste due regioni attraverso il valico della Contessa tra Gubbio e Cantiano riaperto il collegamento e invece grande novità per quello che riguarda il conferimento dei rifiuti in raccolta differenziata nel centro storico di Pesaro addio porta a porta dopo il bilancio positivo della sperimentazione dal 5 febbraio le eco isole saranno in funzione in tutta la ZTL al via assemblee coi residenti per spiegare come cambierà il sistema della raccolta dei rifiuti da Pesaro alla regione Marche arriva il bilancio triennale della regione verrà discusso giovedì in consiglio regionale tra mancette e leggi light il bilancio spreca fondi la politica continua a affioccare candidatura al sindaco di Fano anche Cora Fattori in campo per dedizione alla mia città natale quarto assessore dell'attuale giunta seri che sembra candidarsi dunque alla poltrona di sindaco sempre a Fano nuovo palasport non ci sono fondi progetto fantasma a Pesaro mercato delle erbe per gli ambulanti sarà solo coperto da ombrelloni vedremo all'interno perché e poi giudice trovata morta una storia di un anno fa ora il marito è sotto accusa la procura violenze domestiche sull'Ercolini un fascicolo aperto anche per il figlio adolescente e poi altra notizia dal tribunale una ex ha paura e fa scattare il braccialetto elettronico queste le notizie della prima pagina odierna del Corriere Adriatico in questo 19 di dicembre andiamo a vedere anche i titoli del Carlino e anche qua come nel Corriere Adriatico e come nel nostro Tg di ieri sera le due notizie portanti sono la riapertura della Contessa e la rivoluzione rifiuti nel centro storico di Pesaro anche qua è tornata la Contessa rifatti viadotte galleria ha riaperto il collegamento con l'Umbria che era chiuso da aprile e poi rifiuti arrivano altre 17 eco-isole sono i lumaconi della differenziata che si aggiungono ai 6 esistenti il porta a porta finirà il 3 di febbraio anche qua chiuse le indagini sulla morte di Francesca Ercolini la giudice che si uccise in casa ora il marito e il figlio adolescente sono indagati per maltrattamenti ferita dopo un incidente abbandonata al pronto soccorso ho chiamato il 112 la storia di questa cittadina fanese poi questo è un richiamo prettamente dedicato al Carlino su carta web digitale tutte le offerte per il Carlino maxi sconti per abbonarsi e ancora furti ride di ladri in Baia Flaminia nel mirino negozio e una pasticceria e poi la foto che vedete qua Be Responsible si riferisce a un progetto delle comune di Pesaro un progetto interforze per quello che riguarda la prevenzione all'abuso di alcol e la guida sicura contro droga e alcol al volante il corto colpisce dritto al cuore lo sport VL e Viss in prima pagina il debutto di Cinciarini che dice in quel finale ho perso 10 anni di vita dopo Pistoia in cui la VL ha vinto di un punto in terra toscana invece finale che ha penalizzato la Viss che aveva toccato il cielo con un dito segnando al novantesimo ma subendo il pareggio un minuto dopo parla Capitan Di Paola questi punti lasciati ci servono da lezione e dunque abbiamo visto tante notizie in questo martedì 19 di dicembre per quello che riguarda il territorio pesarese continuiamo la consultazione all'interno delle notizie cominciando dal Carlino e con la riapertura della strada contessa ve l'abbiamo mostrato ieri con le interviste a le due sponde Marche e Umbria Regione e Confcommercio direttamente coinvolte Marche Nord e Confcommercio di Gubbio completamente rifatto il viadotto demolito il ponte e ricostruito lavori importanti sulla tenuta della galleria sollievo di camionisti autisti l'arteria era stata chiusa da aprile torna ad unire Marche e Umbria l'assessore Baldelli dice un bel regalo di Natale per gli operatori economici delle due regioni ecco anche la regia che ci supporta con le immagini della riapertura ricordiamo c'è stato un momento stampa al mattino che vi stiamo mostrando poi la galleria è stata ufficialmente riaperta nel pomeriggio potete naturalmente rivedere anche questo servizio sul nostro sito web e anche sui nostri canali social e andiamo invece all'altra notizia che vi abbiamo ampiamente argomentato ieri la battaglia per l'ambiente rifiuti sotto casa triplicano i lumaconi nella ZTL arrivano altre 17 nuove eco-isole lumaconi e questo appellativo dato dal Carlino riferendosi a questa a questa striscia di cassonetti chiamati anche eco-isole intelligenti di fatto tutto informatizzato accedono soltanto le utenze domestiche e residenziali di questa zona si era partiti nell'ottobre 2022 con solo sei punti di queste eco-isole che comunque prendevano una consistente parte del centro storico e ora è tutto il centro storico a abbandonare il porta a porta e a dotarsi di queste eco-isole belloni assicura come è mostrato anche ieri nel nostro TG che questo porterà via altri parcheggi della ZTL che verranno recuperati con strisce gialle fuori dalla ZTL stiamo ragionando al centimetro per limitare gli inconvenienti il sindaco Ricci dice così è più decoro finita l'epoca dei sacchetti per strada ricordiamo inizierà il 5 febbraio la la modalità di raccolta differenziata solo attraverso le eco-isole intelligenti in tutta la ZTL e ci sarà un momento di coesistenza tra le due modalità perché anzi comincerà al 22 di gennaio ma il 5 di febbraio ci sarà solo la modalità con le eco-isole intelligenti dal 22 al 5 dal 22 gennaio al 5 febbraio coesistiranno i due metodi di raccolta porta a porta ma già l'attivazione dei cassonetti intelligenti come ci ricorda anche questo secondo articolo con tutti i dettagli compresi quelli di come munirsi della carta smeraldo che è quella che consente di accedere appunto ai cassonetti intelligenti voltiamo pagina dopo queste che sono state anche le due notizie portanti del nostro telegiornale di ieri parliamo di prevenzione alla guida sicura all'abuso di alcol e droga tanta attenzione in questo periodo a questo tema vi abbiamo mostrato nei giorni scorsi il progetto Bevi responsabilmente di Confcommercio che si è tenuto appunto nei giorni scorsi c'è anche l'avanzata del progetto Be Responsible portata avanti da tante autorità dal comune alla questura alla prefettura all'unione Pian del Bruscolo alla Croce Rossa e alle scuole e si è creato un cortometraggio che è stato mostrato ieri al Multiplex Geometrica come regista e autore delle storytelling in tre pesaresi quel corto che arriva dritto al cuore e anche qua infatti si ricorda il progetto Bevi responsabilmente che è stato oggetto anche dei nostri spazi informativi una risposta concreta al fenomeno della mala movida un progetto di Fipe Confcommercio che dunque su scala nazionale è stato declinato anche nel nostro territorio e arriviamo a questa storia lo scorso 26 dicembre morì suicida Francesca Ercolini questa giudice nota del Tribunale di Pesaro a 51 anni e ora alla chiusura delle indagini su questa morte sono stati indagati dalla procura dell'Aquila il marito e il figlio denunciati dalla madre della defunta per maltrattamento non c'è stato si legge nell'articolo ancora una comunicazione ufficiale dei diretti interessati ma è quanto emerge da queste indagini che fanno un passo indietro su questo suicidio che lasciò sbigottiti e a quanto pare c'è la richiesta di archiviare per istigazione al suicidio proseguiamo con le notizie del Carlino ci sono stati furti in Baia Flaminia ladri fanno festa alla Baia le telecamere li riprendono colpiti negozio e pasticceria scassinata finestra alla zesta e bucato l'infisso da Jeffrey giorni prima tentato colpo alla bruschetteria da Cato la rabbia del presidente dei commercianti Goffredo Ferri dice capiamo che sul centro storico si concentrano le forze ma meritiamo la giusta attenzione vogliamo incontrare il prefetto e poi come abbiamo raccontato anche ieri nel nostro Tg è ancora in grave condizioni il 26enne che sabato sera è precipitato dal quarto piano di una abitazione in via Barignani nel centro storico di Pesaro è ricoverato in rinamazione al Torrette di Ancona e la prognosi è riservata proseguiamo con un altro argomento che vi abbiamo ampiamente mostrato nel nostro telegiornale che abbiamo seguito in questi mesi la riapertura di via Molini questa strada di Villabetti nel municipio di Montecicardo una frazione che per mesi è rimasta proprio spaccata a metà da una frana che aveva mutilato la viabilità e il normale flusso della vita dei residenti una frana che si era aggravato ulteriormente con l'alluvione di maggio in due mesi è stata completamente ricostruita la strada presentata la fine dei lavori anche l'alluvione aveva fatto danni e tra l'altro potrebbero arrivare anche risercimenti statali visto che questo intervento era stato inserito nella ricognizione della protezione civile nazionale altro appuntamento in prefettura questo pomeriggio che seguiremo anche con le nostre telecamere è il momento della consegna delle onorificenze al merito della Repubblica italiana vediamo a chi verranno assegnate da parte del prefetto Emanuela Saveria Greco ci saranno cinque cavalieri della Repubblica ovvero la dirigente scolastica in pensione Giuliana Ceccarelli nonché ex assessore comunale il comandante dei carabinieri Gianluigi Cirtoli Fabio Costantini anche egli sotto ufficiale dei carabinieri Lucia Marinucci medico dell'ospedale San Salvatore e Leonardo Nardella sotto ufficiale della Guardia di Finanza così come due ufficiali Antonio Colantuono della Polizia Stradale e Sergio Di Palma della Guardia di Finanza in pensione premiato anche come commendatore Amerigo Marotti direttore Confcommercio Pesaro e Urbino come detto le nostre telecamere saranno presenti questo pomeriggio vi mostreremo tutto anche nell'edizione di Rossini News di domani e andiamo avanti con questa storia dal pronto soccorso di Fano che umiliazione al pronto soccorso alla fine ho chiamato la polizia la testimonianza di una 64enne portata in ospedale in seguito ad un incidente ho atteso sette ore nessuno mi visitava e non mi portavano neanche la padella non ce l'ho fatta più ero mortificata prima mi hanno dato un codice giallo poi verde a casa con una prognosi di una settimana ancora Fano con la politica si fa avanti anche Cora Fattori per quello che riguarda la candidatura a sindaco di Fano siamo a quattro assessori che annunciano la candidatura come successore del sindaco Seri dopo Samuele Mascarin Tien Lucarelli anche il vice sindaco Cristian Fanesi e ora Cora Fattori le primarie sembrano al bivio l'assessore alla cultura si pone come elemento di novità fuori dagli schemi poi proseguirà il confronto con i progressisti e poi è stato approvato dopo le rimostranze anche di Marta Ruggeri consigliere regionale il contributo di 50.000 euro al carnevale di Fano 100.000 euro dalla regione ai carnevali storici metà verranno destinati al carnevale di Fano approvato dalla commissione regionale bilancio l'emendamento è già Natale a Metauriglia metafora per dire che arriva un importante regalo atteso dagli operatori balneari 8 milioni di euro di nuovi scogli esultano i bagnini ora fate presto Fanesi assicura lavoro anche sotto le feste nel tratto a sud di Ponte Metaro il turismo balneare soffriva la mancanza fisica di spiagge e poi Urbino Gambini troppo tiepido sulla legge speciale la critica di Londè consigliere comunale di minoranza si rivolge al sindaco la mozione passata in regione per far pressione sul governo è merito di Giacomo Rossi fatta tre decenni fa a scriverla fu dato anche da Bo Volponi e Venturi dopo la galleria della contessa anche la galleria del fullo che lo ricordiamo è chiusa in questo momento nel suo passaggio notturno dalle 8 alle 6 di mattina in direzione Fano tutti i giorni fino alla vigilia di Natale Baldelli dice risponde all'interrogazione di Giacomo Rossi serve tempo per la messa in sicurezza di questo passaggio e poi ogni giorno vi mostriamo sia nel nostro Tg che anche nei quotidiani locali fanno altrettanto tante iniziative natalizie come il nuovo albero antiviolenza albero natalizio nel centro di Borgo Pace e poi la città di Pesaro ricorda finalmente la danzatrice Pallerini giovedì pomeriggio le sarà intitolato il salone nobile di Palazzo Gradari la mobilizzazione per questo riconoscimento è stata popolare e sentita e ora andiamo alle notizie del Corriere Adriatico che vi abbiamo già mostrato attraverso la prima pagina partiamo dal pagino di respiro regionale con il bilancio della regione che andrà in aula giovedì nel bilancio spunta pure un tagliaerba la manovra trenale arriverà in aula giovedì per il via libera maxi emendamento alla tabella e con le mancette ai comuni qua vedete le voci di questa manovra di Palazzo Raffaello con alcune stanziamenti per vari interventi vi citiamo ad esempio la curiosità del titolo spunta pure un tagliaerba riguarda l'acquisto che è per il comune di Apecchio ma poi ci sono 100 mila euro per il nuovo campo sportivo di Monbaroccio 10 mila euro per il campo parrucchiale di Cagli e altri interventi fuori dalla nostra sfera provinciale e poi passiamo a mercato libero di luce e gas il passaggio è a rischio truffa beffati i 210 mila marchigiani mele col center hanno causato un danno medio di 300 euro a testa all'associazione consumatori adusbef mai accettare le offerte telefoniche questa la mappa regionale per quanto riguarda appunto il passaggio di mercato libero di luce e gas che potete monitorare in questo articolo di Veronique Angeletti ed ora prendiamo una pausa dal Corriere Adriatico per andare alla lettura consueta dei saluti e dei commenti alla nostra rassegna stampa in diretta per quello che riguarda la nostra possibilità di interazione in diretta su Buongiorno Rossini salutiamo Anna che ci saluta dal quartiere Celletta salutiamo Luigi che ci dà il buongiorno da Osterianova così come Ornella buongiorno a Luca buongiorno al consigliere comunale Daniele Malandrino buongiorno a Paola Palazzi Fiorella dalla zona Celletta ci pone il punto interrogativo di una gelata in zona Celletta probabilmente alle prime luci dell'alba e dunque attenzione anche per chi transita in questa zona salutiamo Michela da Borgo Santa Maria Ottavio che ci saluta da Vismara Lorenzo che ci saluta da Morciola di Vallefoglia buongiorno a Danilo buongiorno a Maddalena buongiorno anche a Daniele a Paola Danilo che ci sottolinea bene la contessa ora la Fano Grosseto aspettiamo anche la Fano Grosseto questo è un intervento molto più complicato che vi abbiamo più volte argomentato e che sta piano piano facendo passi avanti ci saluta anche Angelo da Calcinelli e poi abbiamo anche un post un promemore del coro filarmonico Rossini di Pesaro che invita tutti al concerto di Natale nel Duomo di Pesaro di venerdì 22 dicembre alle ore 21 abbiamo ricordato in questi giorni anche gli appuntamenti del coro filarmonico sia al Duomo di Urbino che al Duomo di Pesaro buongiorno a Loredana buongiorno anche a Ornella che commenta anche la notizia che riguarda i temi che abbiamo trattato di storie dal Tribunale così come Lorenzo davvero un cordiale saluto a tutti voi una piacevole consuetudine questa delle interazioni in diretta con voi telespettatori che ci seguite sempre in tanti in questo appuntamento del mattino buongiorno Rossini e poi andiamo alla notizia di Pesaro anche qua Ecoisole in tutta la ZTL servizio rivoluzionato per altri 3.000 utenti dal 22 gennaio in funzione i cassonetti intelligenti per i rifiuti differenziati come detto dal 5 febbraio la raccolta porta a porta verrà definitivamente abbandonata qua abbiamo un altro specchietto riepilogativo che ci ricorda la data 5 febbraio Ecoisole in tutta la raccolta differenziata però saranno già in funzione dal 22 gennaio dicevamo periodo di consistenza tra i due i metodi il porta a porta finirà definitivamente il 3 di febbraio i cassonetti diventeranno 23 da 6 che erano e le utenze coinvolte da 1000 diventano 4000 ci saranno assemblee pubbliche per spiegare il tutto la prima già domani alle 18.30 nella sala del consiglio comunale è un investimento importante di Marche Multiservizi il prossimo passo è quello di valutare l'ipotesi di allargarsi anche la zona mare questo è l'ipotesi successiva a quella al centro storico e poi si prepara il trasloco del mercato delle erbe in via Gavardini negli spazi di Palazzo Gradari ci saranno però solo tende e ombrelloni a comprire gli ambulanti la soprintendenza si è opposta all'ipotesi di realizzare tettoie in questa area andiamo avanti sono arrivati a quanto pare sono stati stanziati i sospirati 500 mila euro da parte della regione Marche al progetto di Pesaro Capitale della Cultura 2024 un argomento più volte sollecitato da Andrea Biancani consigliere regionale la regione aveva previsto un milione di euro mezzo milione è stato stanziato diversi mesi fa e ora arriva con il si unanime della commissione al contributo Biancani dice la toppa dopo l'ennesima sollecitazione anche qua il caso di Francesca Ercolini giudice trovata morta un anno dopo il marito indagato per maltrattamenti fascicolo aperto dalla procura dell'Aquila dopo la denuncia presentata dai familiari di Francesca Ercolini come vi abbiamo argomentato poco fa anche sul resto del Carlino altre storie dal tribunale un ex imprenditore è stato salvato dal sovraindepitamento grazie alla legge salva suicidi aveva 200 mila euro di debiti pagherà 300 euro al mese per tre anni questa altra storia che arriva dal tribunale come un caso tra i primi a Pesaro che riguarda il divieto di avvicinamento a braccialetto elettronico d'urgenza un provvedimento che di fatto è diventato legge il 9 di dicembre e che vede una delle prime restrizioni ai danni di un 29enne di Pesaro questo quanto emerge dal provvedimento del tribunale i sentimenti ora si appendono al muro carta, penna ed emozioni meno virtuali spopola la street art le dichiarazioni che non hai mai fatto di Laura Bitondo ed Eugenio Mazzone il maxipanello si trova nella parete di via Baviera che si affaccia su piazza del popolo e poi ci sono anche i momenti conviviali di Natale dedicati agli ultimi ai poveri come quello di oggi allo spazio Conad che invita i poveri a pranzo all'Iper e dunque c'è anche questo momento con lo spazio Conad che appunto porterà 60 pasti gratuiti ai frequentatori della mensa della Caritas e poi c'è anche la cena di Natale della Città della Gioia che si occupa dei senza fissa dimora ve l'abbiamo segnalato ieri si cercano volontari per l'appuntamento della serata del 25 dicembre nella palestra dei Cappuccini che era stata interrotta dopo lo stop per Covid anche il Corriere Adriatico come abbiamo fatto noi nel Tg di ieri sottolinea la riapertura dopo la frana di via Molini a Villa Betti che ha restituito un'arteria strategica per Monte Ciccardo parcheggio bus a Urbino la scura del muto sui prossimi conti di Urbino servizi per le casse comunali la rata annuale passerà dagli attuali 64 mila a oltre 300 mila euro nelle 2024 nonostante questo il bilancio sarà attivo e poi passiamo a Fano con queste segnalazioni di residenti la Gincana sul marciapiede fantasma tragitto a ostacoli tra cassonetti auto parla Antonio Secli a nome dei residenti l'area è pedonale ma così disse stata che nessuno osserva i limiti andiamo avanti con la politica anche qua la candidatura di Cora Fattori tra la Margherita di candidati al sindaco di Fano che come si ricordavamo è il quarto sfidante del centro-sinistra lo faccio per dedizione alla città dove sono nata e poi anche il Corriere Adriatico dedica ampio spazio alla riapertura della Contessa che riporta l'ottimismo collegamento che fa economia inaugurati ieri Galleria e Viadotto alla cerimonia il Gota delle regioni Marche e Umbria ve l'abbiamo mostrato anche poco fa con un estratto del nostro telegiornale ricordiamo ha interessato i 12 chilometri tra Gubbio e i comuni di Gubbio e Cantiano i lavori sono cominciati dal 17 aprile al 18 dicembre e hanno lavorato 6 ditte fino a 50 uomini contemporaneamente 6 milioni di euro di intervento per un viadotto lungo 107 metri con l'altezza massima di 20 a 6 campate sostenute da 5 pile antisismiche 3 milioni e 4 l'investimento sulla Galleria e torniamo anche su Fano per il progetto del Palasport che a quanto pare non è nemmeno sulla carta non ci sono né fondi né progetto l'ipotesi al risparmio di una struttura più piccola al momento non soddisfa nessuno come accusa l'Udc di Fano ed ora andiamo come di consueto alle notizie di Sport con qualche analisi a bocce ferme dopo il weekend sportivo come avviene di consueto al martedì analisi ad esempio del capitano della Vispesoro Di Paola dopo questo rocambolesco 2-2 in casa col Sestri Levante che ha lasciato molto amaro in bocca ci serva da lezione dice Di Paola che vedete qui in fotografia palla al piede segnando al novantesimo forse si è fatto l'errore di rilassarsi ripartiremo a testa bassa concentrati sulla prossima partita intervista dunque al capitano della Vispesoro mentre per quello che riguarda il calcio di Serie D per il Fano arrivano due match verità dopo il successo sull'Avezzano domani la sfida al Monte Rotondo è inizio gennaio il vasto Girardi le trasferte sono di fondamentale importanza per la corsa salvezza occhi puntati su Tencorang la società è attiva sul mercato per assicurare un'altra punta a Cornacchini il Fossombrone guarda già all'arrivo del Tivoli dopo il pareggio di Sora l'impu del direttore generale Meschini vogliamo finire al meglio questo fantastico 2023 anno in cui il Fossombrone ha riassaporato la quarta serie del calcio nazionale e passiamo invece alla VL reduce dalla confortante vittoria di Pistoia la promuove Buscaglia che dice a Pistoia abbiamo avuto la possibilità abbiamo avuto la capacità di fare le giocate giuste nei momenti difficili dedichiamo la vittoria ai tifosi sono troppo felice per loro ottima prova di Cinciarini con 10 assist all'esordio con la maglia della sua città ed ora passiamo anche alle notizie delle QS il quotidiano sportivo allegato al resto del Carlino con anche qui per la Vispesaro il titolo è praticamente identico stessa intervista a mano il Di Paola punti persi ci serve da lezione con il Sestra avremo meritato la vittoria questo è un campionato dove non puoi distrarti nemmeno un attimo ma ci rifaremo ricordiamo manca una sola partita per la Vispesaro il 23 di dicembre ad Alessandria contro la Juventus next gen sul Fano anche qua si sottolinea come si vuole blindare Tenkorang il presidente russo si tiene stretto l'attaccante che con una spedita doppietta ha firmato la vittoria Granata contro l'Avezzano Tenkorang che ha richieste anche in C dopo il pareggio di Sora invece il Fossombrone ha Tempra così lo giudica il tecnico fucile c'è mancato solo il gol domani si torna in campo come detto con il Tivoli e poi passiamo alla VL da Pistoia segnali dell'attesa svolta Cincerini dice mi piace accendere la miccia l'ingresso del campione è stato determinante per una vittoria strategica sarebbe stata una mazzata perdere dopo aver dominato così a lungo i dati statistici dicono anche che Visconti ha firmato la sua miglior partita stagionale e poi andiamo anche all'analisi della Pesaro Rugby che ha perso con Rugby Paese 18 a 22 poca lucidità ma buon carattere l'analisi di coach Panzieri dopo questa sconfitta in casa che chiude il 2023 si conclude qui la nostra rassegna stampa di buongiorno Rossini come di consueto prima di salutarci vi ricordiamo alcuni appuntamenti sul nostro canale 80 a cominciare dalla inaugurazione del Sicontè Superstore il nuovo supermercato tra Via del Novecento e Via Bonini vedete questa foto dall'alto di un'inaugurazione che c'è stata giovedì che vi abbiamo mostrato con un estratto già nel nostro telegiornale vedremo tutti gli approfondimenti su questo nuovo punto di grande distribuzione a Pesaro appuntamento alle 20 e poi martedì sera è la serata di amministrando con la nostra marcia d'avvicinamento alle elezioni 2024 puntata al femminile con l'assessora all'innovazione del comune di Pesaro Francesca Franco e Luci e la consigliera comunale Giulia Marchionni e dunque due voci del comune di Pesaro ospiti che questa sera si confronteranno nel salotto di amministrando verso le elezioni 2024 alle 21 e 20 e poi vi ricordo l'appuntamento con Rossini News questa sera alle 19.30 il nostro telegiornale che alle 19.30 può essere seguito anche in diretta a Facebook poi ci sono le repliche alle 20.30 23.30 mezzanotte e mezza e la mattina seguente alle 6.30 e poi alle 13.30 e dunque vi aspetto questa sera per le ultime notizie di questo martedì si conclude invece qui l'appuntamento con Buongiorno Rossini vi ringrazio per averci seguito vi lascio le previsioni del tempo e vi auguro un buon proseguimento di giornata in compagnia dei nostri programmi grazie a tutti